Ciao Mr. L'Universo, io sono il Salutatore, ti chiedo un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono in tutto il mondo e in tutto l'Universo. E che ti saluto in base a tutti i tuoi fan. Grazie, ciao. Grazie alla finale mondiale. C'è la domenica del Salutatore. Ciao. Ciao.